Ti sei mai chiesto quale cane potrebbe effettivamente diventare amico di un gatto? Sono Fauna Fanatic e oggi risolveremo questo mistero insieme. Ma prima, lascia nei commenti quale animale vorresti che trattassi nel prossimo video. Cominciamo con un viaggio nel tempo, direttamente alle corti inglesi. Il Cavalier King Charles Spaniel era il cane preferito della regina Vittoria. Ma cosa lo rende così speciale da essere amato dai reali? Guardate queste orecchie lunghe e fluide e questo mantello setoso. Pesano tra i 5 e gli 8 chili. Ma non lasciatevi ingannare dall'aspetto, c'è molto di più sotto quella facciata regale. Questo cane è come un piccolo ambasciatore della pace in casa. Sa come fare amicizia anche con i gatti, cosa rara nel mondo canino. Con i bambini, poi, diventa un vero e proprio angelo custode peloso. Non pensate che sia tutto rose e fiori. Questi piccoli ambasciatori hanno bisogno di esercizio e stimoli mentali. Ma sono anche molto desiderosi di compiacere, il che rende l'addestramento un gioco da ragazzi. Come ogni amicizia.